Luciani ha firmato un accordo biennale con la società Amaranto. Non è l'unica novità. L'Arezzo, infatti, ha deciso di rinnovare il contratto, sempre per altri due anni, ad Edoardo Masciangelo, alla sua seconda stagione in Amaranto. Nella stagione appena conclusa si aveva collezionato 12 presenze, prima di essere inspiegabilmente accantonato da Capuano. Intanto arrivano novità sul fronte della Lega Pro e sull'utilizzo dei giovani. Ci saranno due liste, una di 16 over e una lista di giovani senza limite di numero. Più giovani giocano, più le società guadagneranno. Non ci saranno obblighi per l'utilizzo dei calciatori che sono nati dopo il 1 gennaio 1995.